Buongiorno e benvenuti su Meteo Giuliacci. Oggi domenica 11 agosto, ancora residui e condizioni di instabilità sulle estreme regioni meridionali. Tempo bello e soleggiato invece al centro nord sulla Sardegna per l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre. Andiamo a vedere l'immagine dei satelliti virtuali che ci mostra appunto l'espansione dell'anticiclone proprio sul Mediterraneo. Attenzione a questa perturbazione che vedete sull'Europa centro-sottentrionale lambirà il nord Italia tra lunedì e martedì. Andiamo a vedere la previsione per la giornata di domenica. Vedete un bel tempo su quasi tutta la nostra penisola, a parte le estreme regioni meridionali che soprattutto al mattino vedranno ancora qualche rovescio, qualche temporale. Ma nel pomeriggio la situazione andrà migliorando. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno stazionarie su valori per lo più compresi tra 29 e 33 gradi. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro ancora una buona giornata. Grazie a tutti.